La storia d'amore Alice Rachele Arlanc è fidanzato, ecco come prosegue la storia d'amore Alice Rachele Arlanc, Miss Italia 2017, ha trascorso le festività natalizie nella sua casa in Trentino con la famiglia, il fidanzato Andrea Latorre e il Canebri Alice Rachele Arlanc innamorata di Andrea Latorre Prosegue la storia d'amore tra i due ragazzi 22 anni Lei, intervistata dal settimanale Diva e Donna, conferma, Fortunatamente tra noi va sempre bene Mi continuano a dire che ogni Miss Italia torna single ma per fortuna per ora fila tutto liscio Quando torno in Trentino viene anche lui che vive a Milano, ci incrociamo in treno a Verona Non è geloso e mi aiuta a gestire i social quando non ho tempo Alice Rachele Arlanc sogna la proposta di matrimonio Miss Italia confessa che si emoziona ogni volta che sente la canzone che Fedez ha dedicato a Chiara Ferragni quando le ha chiesto di sposarlo A lei, però, piacerebbe una cosa più intima, privata So che il mio fidanzato non si limiterebbe a portarmi a mangiare fuori, ma non vorrei niente di plateale Mi piacerebbe un giorno sposarmi, anche avere figli, so che succederà, ma ora ho altre priorità Alice Rachele Arlanc e il Canebri Miss Italia è cotta anche di Briette, un bellissimo cane da pastore di tre anni, quando l'ho presa in braccio da cucciola è stata una delle emozioni più grandi della mia vita Tremava, poi mi ha vomitato sulle scarpe, ride, NDR E un cane dolcissimo e intelligente, ha portato felicità nella nostra famiglia e ci ha unito ancora di più Alice Rachele Arlanc, Chi è Miss Italia 2017 La 22enne viene da Vallarsa, paesino di soli 14 anime, alta 1,78 metri, ha occhi verdi e capelli castani chiari E diplomata al liceo classico, studia giurisprudenza all'Università di Trento, con indirizzo diritto internazionale transeuropeo e sogna di diventare un bravo avvocato, impegnato dice a garantire l'uguaglianza sociale e la tutela dei diritti delle minoranze Ciao